Pessoa Il furto nella villa delle vigne È stato possibile ricostruire questo racconto di raziocinio grazie ad alcuni spunti contenuti nelle carte di Pessoa. Per una chiara e completa comprensione si è ritenuto opportuno far precedere il testo da una nota e legare i vari frammenti inserendo tra di essi alcune aggiunte esplicative. È una sera del 1905. Nella villa delle vigne sono presenti il padrone di casa José Mendes Borba suo figlio José Alves Borba e sua sorella, donna Adelaide la figlia di quest'ultima, Maria Adelaide Manuel Barata, allievo ufficiale, cugino d'Eborba Elisa, un'amica di Maria Adelaide Augusto Claro, infine un ingegnere amico di famiglia e si trova lì per un invito. Verso mezzanotte si ode un'esplosione. Viene identificato il luogo dello scoppio e la cassaforte di casa è trovata aperta con una serratura scassinata. Sono scomparsi cento titoli del credito estero portoghese che pochi giorni dopo erano in circolazione bancaria sulla piazza senza che l'agente di tali operazioni finanziarie venga individuato e sorpreso. Avviata l'inchiesta per ordine del giudice istruttore i sospetti dell'ispettore Lima cadono sul figlio del proprietario della villa. Non solo José Alves si trova in una difficile situazione economica da una volta ha sottratto al padre una somma considerevole ma egli, come risulta dalle indagini è anche in contatto con tale Emanoel spacciatore di moneta falsa. Si presume inoltre che nessuno avrebbe potuto compiere un simile furto senza la complicità di qualcuno di casa. La polizia intanto riesce ad appurare che la notte del crimine erano presenti a cena tutti i residenti nella villa e che alle 23 eccezione fatta per il vecchio José Mendez e per l'ingegnere ciascuno si era ritirato nella propria stanza. Due circostanze risultano strane agli occhi dell'ispettore perché l'ingegnere Claro appena prima dell'esplosione è salito in cerca di sigaretta al primo piano dove si trovava la cassaforte perché i criminali hanno scelto un'ora così pericolosa e un sistema tanto rumoroso con il rischio di essere colti sul fatto. Sempre convinto che il furto sia stato possibile solo con l'aiuto dall'interno l'ispettore mette agli arresti il giardiniere José Algarvio nonostante il persistere dei sospetti contro il figlio del padrone di casa. A questo punto l'ingegnere Augusto Claro si rivolge al dottor Quaresma nella speranza che gli possa risolvere il caso e salvare così José Algarvio della cui innocenza è sicuro. Iniziano i frammenti lasciati da Pessoa. L'io narrante del furto della villa delle vigne è proprio l'ingegnere Claro. Nonostante mi infastidisse a priori l'idea di raccontare al dottor Quaresma tutta la storia del furto non potevo per decoro esimermi dal farlo. Per questo motivo rassegnandomi serenamente riassumendo il più possibile esposi tutti i fatti che sono riportati nel corso di questa narrazione. Applicai, come facile a immaginare, qualche censura. Non parlai dai debiti di José Alves neanche di quei 500 escudos e tanto meno del discorso di Lima secondo il quale questi elementi erano all'origine di tutto l'accaduto. Non potei però fare a meno di parlare dell'ipotesi degli inquirenti che fossero quattro le persone al lavoro e del fatto che la polizia sospettava che avessero agito d'accordo con qualcuno all'interno della villa delle vigne. Se non si spiegava così l'arresto di José Algarvio era incomprensibile e poi bastava che il dottor Quaresma si interessasse attivamente presso la polizia per scoprire questi retroscena. Il dottor Quaresma mi ascoltò con grande attenzione ma, così posso dire, con attenzione divisa. Sembrava proprio mentre mi udiva con gli occhi che stesse ascoltando una voce diversa dalla mia. riconosco l'assurdità di queste parole ma trascrivo qui la mia sensazione di allora. In realtà il dottor Quaresma senza cessare di ascoltarmi attentamente sembrava intento a seguire il discorso interiore di un altro pensiero ragionamento o congettura connesso con quanto gli stavo raccontando. Finalmente terminai il mio racconto mi credevo libero dal suo peso ma il dottor Quaresma che non mi aveva interrotto mentre raccontavo cominciò a questo punto a farmi delle domande. Mi chiese una descrizione minuziosa delle persone che si trovavano in casa al momento del furto. La mia prima descrizione era stata sommaria. Mi interrogò su età, professioni, situazioni finanziarie e tutto il resto. Cominciai a sentirmi meno tranquillo soprattutto quando l'oggetto delle domande era José Alves. non potevo dire tutta la verità su di lui ma fosse solo per giustizia nei confronti del giardiniere agli arresti non potevo nemmeno nascondere supinamente i fatti. Inoltre non ero molto sicuro che il dottor Quaresma parlando con la polizia non scoprisse i fondamenti dell'altra ipotesi dell'ispettore Lima. Decisi allora di raccontare alcune delle vicissitudini finanziarie di José Alves senza spiegare i motivi da lui addotti e senza far riferimento al furto precedente. A un certo punto però iniziai a confondermi perché il medico entrava in argomento per vie traverse. Mi chiese se i rapporti fra padre e figlio erano sempre stati buoni al che io risposi che mi sembrava di sì ma lo stesso verbo sembrare mi suonò troppo prudente e temeti che fornisce al dottor Quaresma più informazioni di quante ne volessi dare. Con queste e altre domande mi intrattenne senza divertirmi per circa un'ora e mezzo a partire dall'inizio del mio discorso. Si può supporre che nel brano mancante l'ingegner Claro chieda al dottor Quaresma se può salvare il giardiniere dalla prigione. Il dottore risponde lo posso fare solo scoprendo il vero colpevole. E allora lo faccia dottore. Quaresma allargò le braccia allungò la mano destra e mi toccò una spalla poi si alzò dalla sedia e si diresse verso un attaccapanni su cui teneva il cappello. Mi dispiace se usciamo domandò vorrei fare una passeggiata e ragionare un po' sul caso. non mi dispiace affatto e uscimmo scendemmo verso la rua dos fanqueiros era un bel pomeriggio d'autunno camminammo l'uno a fianco dell'altro entrambi in silenzio e alla fine della strada seguendo i passi del dottor Quaresma girammo a destra verso il terriero de Pajo il dottore avanzò lentamente a testa bassa le mani sempre incrociate dietro la schiena fino al muro di sinistra lì si fermò e io con lui guardando il fiume con aria distratta restò così per un attimo poi si volse verso di me un'espressione grave e diretta era dipinta nei suoi occhi sempre febbrili salverò José Algarvio disse ma prima di farlo ho bisogno di studiare con molta attenzione come devo muovermi in questa faccenda è proprio capitato a proposito che fosse lei a cercarmi perché è esattamente con lei che devo trovare la soluzione del problema mi dica una cosa non è mai successo di sospettare José Alves se mi è successo no ma come fa a sapere che è sospettato o che può esserlo l'ho dedotto dalle parole che lei non mi ha detto fece una pausa mi dispiacerebbe se avesse pensato che i sospetti potevano cadere su José Alves lei è suo amico non è vero? la risposta dell'ingegnere è affermativa se salvo questo José Algarvio José Alves sarà inevitabilmente arrestato forse no disse io lo sarà di sicuro sarà arrestato e condannato José Algarvio può essere scagionato facilmente non era neanche necessario al mio aiuto e José Alves che non si salva peccato voglio dire non si salva se l'inchiesta viene portata avanti solo dalla polizia se ha un unico sistema per salvarlo faccio fare il colpevole ora la polizia non è capace di farlo perché è caduta fin dall'inizio in un errore fondamentale quello stesso errore in cui il colpevole ha voluto che cadesse e lei sa chi è il colpevole sì vuole che salvi José Alves sì disse io un po' esitante senza capire quello che non sarebbe conseguito ed ecco l'ultima fase della ricostruzione in cui il medico seguendo la concatenazione logica dei fatti approda la scoperta del colpevole a parlare non è più Augusto Claro ma il dottore stesso il criterio di investigazione che adotto perché penso sia il più razionale di tutti è quello di dividere l'indagine preliminare in tre fasi la prima consiste nel determinare quali sono i fatti incontestabili assolutamente incontestabili eliminando tutti gli elementi che non lo sono o in quanto mancanti di prova diretta o in quanto conclusioni forse logiche forse inevitabili tratte da questi fatti ma in ogni caso conclusioni e non fatti vi farò un esempio per chiarire fino in fondo il significato di queste mie osservazioni immagini che sia un giorno di pioggia e che io sia in casa vedo un individuo con l'abito grondante d'acqua è naturale che pensi quest'uomo ha camminato sotto la pioggia e si è bagnato può darsi benissimo però che sia andata diversamente e che gli abbiano rovesciato addosso dell'acqua dentro casa la maggior parte della gente darebbe per certo il fatto che quest'uomo sia stato sotto la pioggia è una conclusione una conclusione naturalissima ma una conclusione o una deduzione se fossi rimasto alla finestra e avessi visto quell'individuo arrivare per la strada sotto una pioggia scrosciante potrei dire che il poveretto si è bagnato magari in qualsiasi altro modo ma che un po' di pioggia deve averla presa potrei in ogni caso affermare che l'uomo è stato sotto la pioggia e questo sarebbe un fatto ora nel caso del furto alla villa delle vigne ci sono alcuni fatti che sembrano incontestabili dico sembrano perché si basano su testimonianze che possono essere false sia involontariamente che di proposito questi fatti sono che verso la mezzanotte del giorno di settembre si è verificata un'esplosione di dinamite nella serratura della cassaforte nello studio della villa che questo studio e il salottino annesso erano chiusi dal di dentro con la porta del salottino aperta e due cani morti per avvelenamento e a questo punto non si trovavano più nella cassaforte alcuni titoli cento del credito estero portoghese prima serie che erano custoditi in quella cassaforte che non si è trovata alcuna traccia sospetta nel corso della ricerca eseguita immediatamente nei dintorni della casa che tutti i titoli rubati i cui numeri sono stati verificati su un elenco in possesso del proprietario dei titoli sono passati in circolazione bancaria sulla piazza senza che alcuno di essi sia stato rintracciato durante la procedura di passaggio di fatti fatti veri e propri ci sono solo questi qualsiasi altra cosa si voglia passare per fatto è solo una deduzione stabiliti i fatti incontestabili arriviamo alla seconda fase dell'indagine essa consiste nel determinare qual è l'ipotesi che nel modo più esauriente connette spiega i fatti incontestabili ma isolata tali ipotesi bisognerà chiedersi quali altre sebbene in modo meno evidente si adattino all'insieme degli stessi fatti e queste ipotesi si determinano in modo molto semplice scoperta l'ipotesi più probabile si stabilisce subito dopo quella contraria e si verifica il suo grado di probabilità una volta fissato questo punto sarà possibile passare ad altre ipotesi cioè a quelle intermedie fra la più probabile e la sua contraria e verificare a una a una la loro probabilità nel caso che stiamo affrontando l'ipotesi apparentemente più probabile è quella che tutti hanno accettata fin dall'inizio istintivamente ritenendola tanto probabile da prenderla addirittura per fatto e non per ipotesi o conclusione questa ipotesi è che il furto sia stato perpetrato da uno o più individui estranei alla villa delle vigne che hanno avvelenato i cani sono entrati in casa di nascosto hanno messo la dinamite rubato i titoli e sono fuggiti poi abbastanza in fretta da non essere visti verificata tale ipotesi stabiliremo quella contraria l'ipotesi contraria è che il furto non sia stato eseguito da estranei e che non si sia verificata alcuna delle circostanze apparenti già indicate è questo che costituisce come vedremo l'ipotesi contraria ora il grado di probabilità si può attribuire a tale ipotesi contraria siccome l'ipotesi più probabile la più immediata per tutti è che il furto sia stato eseguito da estranei e nelle circostanze indicate quella contraria sarà effettivamente probabile solo in un caso che ci sia stata l'intenzione di simulare un furto da parte di estranei in questo caso l'ipotesi contraria è probabile tanto probabile quanto la prima è naturale ci troviamo dunque di fronte a due ipotesi probabili e opposte fra loro quale delle due è la più probabile dobbiamo considerare questo problema alla luce dell'esame delle circostanze dirette del furto ossia considerando prima il luogo del furto secondo l'ora in cui il furto è stato eseguito terzo la natura di quanto è stato rubato sono questi i tre elementi obiettivi e diretti dell'accaduto il luogo del furto può essere considerato sotto due aspetti il luogo in se stesso e la scelta di questo luogo per il furto ossia il fatto che il furto sia stato eseguito nello studio della villa e il fatto che la villa delle vigne sia stata scelta come un luogo per il furto quanto al fatto che il furto si sia verificato nello studio della villa non c'è nulla di straordinario perché è lì che sta la cassaforte e il furto doveva per forza verificarsi lì ma quanto a scegliere la villa delle vigne come casa in cui rubare la cosa è diversa come si poteva presumere che la cassaforte della villa delle vigne fosse un colpo più vantaggioso di qualsiasi altra cassaforte quale estraneo poteva immaginarlo chi avesse avuto le capacità e il sistema per rubare come si è rubato in questo caso perché avrebbe scelto la villa delle vigne quando senza una particolare abilità e con minori rischi avrebbe ottenuto migliori risultati agendo da un'altra parte il calcolo delle probabilità in questo caso sembra dunque indicare una persona non estranea alla casa in grado di rubare quella cassaforte non avendo altro sotto mano motivo chiaro e sufficiente e consapevole della necessità di simulare il furto da parte di un estraneo per sviare l'attenzione dalle persone della casa fra le quali sarebbe stato incluso anche lui veniamo adesso all'ora del furto e se è più insolita se il colpo è stato compiuto da estranei che non si è stata opera di qualcuno di casa una volta entrato in una casa il lato estraneo lascia passare il tempo necessario per avere la certezza o quasi che tutti stiano a dormire perché agire subito anche nel caso non si sapesse che qualcuno era ancora alzato se il furto è stato commesso da estranei loro scelta è la più sorprendente che si possa immaginare ma per qualcuno di casa se volesse simulare un furto da parte di estranei è proprio quella giusta quasi tutti erano coricati ma alcuni erano ancora in piedi non tanti da correre il rischio di imbattersi in qualcuno durante i preparativi della simulazione ma c'era un numero sufficiente di persone per notare l'ora del furto in questo caso la presunta ora e per avvisare che il furto era stato commesso quanto alla natura di quanto è stato rubato se il furto fosse stato perpetrato dai stranei essi avrebbero rubato i titoli o avrebbero rubato solo quello che avessero trovato contro l'ipotesi che andassero a casaccio congiure alla natura stessa del furto e il modo con cui successivamente la rifurtiva è stata messa in circolazione sembra indicare una preparazione preliminare in ogni indagine su un fatto la cui natura non si conosce e si vuole sapere o il cui autore si ignora e si vuole scoprire quello che importa soprattutto e prima di tutto è isolare in esso qualsiasi elemento che pur essendo assolutamente indubitabile sia al tempo stesso inaspettato o strano questo furto contiene due elementi che sono inaspettati o strani le circostanze del furto è il fatto che si sia riusciti a fare circolare i titoli senza incontrare alcun ostacolo da uno di questi due fatti dunque conviene che iniziamo l'indagine una volta isolati i fatti più strani ma di cui non si può dubitare che siano accaduti presumendo è chiaro che ce ne sia più di uno sceglieremo fra tali fatti come inizio effettivo dell'indagine quello suscettibile del minor numero di interpretazioni quello cioè che sembri più misterioso ora la circolazione dei titoli è suscettibile di diverse interpretazioni può esserci stata una macchinazione con qualche individuo in una banca o alla borsa può esserci stato uno sbaglio nell'elenco dei titoli può esserci stato uno scambio inavvertito di titoli e quindi una mancata verifica dei numeri ma sulle circostanze del furto stesso non esistono varie ipotesi plausibili è solo molto strano sì il furto è stato effettuato stando a quanto si è visto con un sistema rumoroso e a un'ora non così avanzata da essere mattino ma neanche così tarda da dare la certezza che tutti quelli che erano in casa fossero colicati ed in effetti non lo erano potendo la cassaforte essere aperta in vari modi che non provocassero rumore è stato scelto di proposito un sistema che ne facesse molto e per di più un sistema poco comune risultato è stato scelto un sistema poco comune perché era superfluo e dava l'allarme proprio le ragioni opposte a quelle che avrebbero spinto a scegliere un sistema non comune che l'intenzione fosse quella di rubare i titoli è evidente innanzitutto perché il modo misterioso in cui essi sono stati fatti circolare deve in ogni caso essere stato preparato poi perché essendo stato il furto effettuato da gente di casa non ci sarebbe stato tempo per rubare altro che i titoli bene queste circostanze ci portano a una conclusione il sistema usato per il furto è stato scelto proprio per dare l'allarme ora non si dà allarme se non per uno scopo ingannare sull'ora del furto e se consideriamo che le modalità del furto uno scoppio predisposto per mezzo di una miccia possono essere studiate da una persona per produrre un risultato quando questa persona non sia presente arriviamo a un'altra e ulteriore conclusione che il furto non è stato eseguito mediante l'esplosione della dinamite se non è andata così il colpo è stato eseguito con una copia della chiave e se lo è stato con una copia della chiave chi ha commesso il furto era una persona di casa che con l'esplosione ha voluto dar l'idea che a rubare fossero stati degli estranei ma se questa persona voleva dare l'idea che a rubare non era stata lei avrebbe dovuto completare la sua messa in scena con la precauzione di trovarsi in un luogo in cui potessero vederla al momento dell'esplosione assicurando così a se stessa un alibi sufficiente al momento dello scoppio erano tutti coricati tranne due persone papà borba e lei eccellenza e siccome era lui il proprietario dei titoli il primo sospetto è su di lei eccellenza che ricade perché il sospetto sia confermato maggiormente avvalorato bisogna vedere innanzitutto se un po' prima dell'esplosione lei eccellenza è uscito dalla sala da pranzo con un pretesto qualsiasi e si è trattenuto fuori quanto bastava per predisporre la messa in scena ora lei eccellenza è uscito con un preciso pretesto quello di aver lasciato un porta sigarette nella stanza dell'allievo ufficiale e si è fermato il tempo sufficiente per predisporre tutta la messa in scena una cosa di pochi minuti del resto soprattutto per chi avendo già studiato ogni minimo particolare è in grado di agire molto rapidamente la parola adesso è nuovamente l'ingegnere smascherato ormai come l'autore del crimine il dottor Quaresima levò le mani da dietro la schiena mi guardò rapidamente e senza espressione e tendendo improvvisamente la mano destra mi toccò la spalla poi tornò alla posizione in cui si trovava prima con le mani di nuovo intrecciate dietro la schiena e lo sguardo perso in direzione del Tago come una bolla di sapone senza rumore mi si infranse il cuore rimasi sospeso in un vuoto interiore senza ragioni senza parole senza gesti se il dottor Quaresma avesse detto una cosa qualsiasi avrei risposto una cosa qualsiasi avrei avuto uno spunto a cui riferire i miei pensieri e la mia voce al suo silenzio non riuscii a rispondere nulla la sua espressione mi gelava nel lungo spazio di pochissimi secondi tentai disperatamente di dar vita a un atteggiamento una parola un gesto qualsiasi cosa non ci riuscii e allora compresi con violenza il potere che ha dentro di noi se qualcuno lo sa stimolare il senso di colpa nel caso fossi stato innocente avrei detto qualcosa qualcosa sarebbe successo a ogni frazione di secondo del mio silenzio la mia colpevolezza addensava lo spazio all'ogni frazione di secondo della mia coscienza di questo silenzio aumentava la mia incapacità di parlare di agire di difendermi la mia sconfitta era totale dopo un lasso di tempo dovevano essere stati pochi secondi mi fu perfettamente chiaro il dottor Quaresma smise di guardare il Tago ma non si volse verso di me si girò di spalle verso il fiume e mi disse con il tono di chi non ha detto prima niente di grave e se ce ne andassimo visto che si avviava verso l'arco della rua Augusta mi camminai anch'io silenzioso al suo fianco sotto il peso schiacciante dell'accusa definitiva che non era stata proferita in mezzo alla piazza il dottor Quaresma si voltò verso di me mi guardò in faccia ma non negli occhi e mi chiese che cosa pensa di fare mi venne una gran voglia di piangere di chiedergli scusa a lui cui non avevo fatto nulla per un attimo non riuscì a parlare poi ritrovai la mia voce che gli diceva non so e aggiunsi un attimo dopo lei il dottore dirà quel che vorrà il dottor Quaresma allora mi guardò fisso e mi disse con grande semplicità non ho niente da dire come ha già capito ho risolto e posso dirle che l'ho risolto con molta facilità il suo caso il resto sono affari suoi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti